Oggi il primo incontro istituzionale, ci siamo conosciuti, abbiamo presentato quali saranno le iniziative del nuovo governo, loro ci hanno rappresentato lo stato d'essere delle autostrade, delle strade siciliane. Siamo rimasti con loro che ci rivedremo prossimamente nei loro uffici per verificare tutti i progetti in essere cantierabili che metteranno in atto nelle prossime settimane e lo stato di avanzamento dei lavori esistenti. Abbiamo parlato di tre grandi arterie, naturalmente la Palermo Catania, poi ci siamo soffermati sulla Palermo Agrigento e poi l'autostrada di nuova costruzione che sarà la Catania Ragusa. Nelle prossime settimane avvieremo con loro un controllo in loco dello stato di avanzamento dei lavori e riteniamo che nell'arco dei prossimi tre mesi potremo sicuramente ridurre il tempo di percorrenza delle prime due arterie di cui parlavamo, cioè la Palermo Catania e la Palermo Agrigento, di almeno il 20%.